Una rapina è stata sventata ieri sera intorno all'orario di chiusura all'interno del supermercato Simpli di Via Salso. L'intervento è stato operato dal commissariato di polizia di Via Campobello. È stato accertato che due donne di nazionalità rumena, ma residenti a Gela, stavano prelevando dagli scaffali prodotti di cosmetica e di igiene della persona, nascondendoli in due borse. All'interno del supermercato si trovava anche un poliziotto del reparto mobile in servizio a Catania, che è stato allertato dalla cassiera del supermercato, il quale aveva notato gli strani movimenti delle due donne. Al momento del pagamento, alle due rumene, è stato chiesto di svuotare le borse, dove sono stati rinvenuti diversi bagnoschiume e deodoranti stick. All'esterno del supermercato, le due donne erano inoltre attese da un uomo in macchina rimasto in compagnia di un bambino in tenera età. La perquisizione della vettura degli agenti del commissariato di Licata, coordinati dalla dirigente Marco Alletto, ha permesso di rinvenire altre due sacche dove era occultata altra merce, verosimilmente rubata in altri supermercati, con all'interno generi alimentari e prodotti per la cura del bambino. Le tre persone, la più giovane delle quali di 22 anni, sono risultate tutte senza precedenti e sono state denunciate per furto in flagranza di reato.